Namaste, io sono East Brave e bentornato in un altro episodio di Reign's Air Majesty vediamo un po' dove eravamo rimasti, continuiamo pure con il segno del leone incontra l'esploratore, incontra ingaggia la mercante e ripara il gufo meccanico chissà a cosa serviranno queste cose e abbiamo questa madre particolare vediamo un po' se ne abbecchiamo, la morte violente di Elisabetta la fotocchiera rimarrà negli annali come un esempio di giustizia poetica, la legina Vilma sale al trono tra il plauso generale le leggende sulla sua bellezza e clissano qualsiasi altra notizia abbiamo il profumo, abbiamo l'osso e abbiamo ancora il libro vuoto quindi vediamo un po' cosa riusciamo a fare, assistere al torneo è una noia non pensate che potrei gareggiare anch'io in guardia sì, è incredibile, il re ha vinto il torneo, usiamo un filo d'oro per tessere un grande razzo in suo onore ma certo, oppure dobbiamo per forza, ma certo ho speso un sacco di soldi per la mia gente l'istruzione delle donne è importante ma è giusto celebrare anche la loro bellezza? sì, però visto che tu sei una che c'entra con cosa non è che magari è bello che si spostano anche gli occhi non è che posso darti a te questo? questo libro vi è stato consegnato dall'onimadre dovete conferire con la mia padrona, la signora del bosco che abbiamo già sentito dal cacciatore? va bene? alcuni ritengono che assuma le sembianze di animale scriverò un incantesimo sul libro che vi aiuterà a trovarla sì ok, il libro di incantesimo è rosso oggetto aggiunto alla tua borsa il libro è diventato rosso quando l'accollita c'è scritto sopra notate i segni degli animali sulla copertina in pelle quindi adesso dobbiamo andare nel bosco a beccare qualcuno quindi, ok con gli animali, magari c'entra con gli animali una riprovebole donna orientale sta cercando di macchiare il mio buon nome vi sono giuro pagate quello che chiede non ho soldi un uomo che sostiene di essere un grande esploratore è qui per incontrarvi è bellissimo, invitiamolo ad entrare certo perché dobbiamo incontrare l'esploratore Sir Brandon mia regina permettetemi abbiamo le carte di Discovery Channel adesso sbloccato va bene mia regina permettetemi di onorare il vostro nome con le mie scoperte con i vostri fondi esplorerò nuovi mondi vai è una roba nuova anche se abbiamo speso un sacco di soldi sua master re ha invitato due lord rivali al banchetto due leranno per tutta la sera e sarà un caos che fare? qualche idea? nessuno oserebbe versare una goccia di sangue davanti al cardinale però ci toccherà invitarlo va bene questa è la baronessa di Port Sead per me e quell'esploratore è qui solo per spendere il vostro denaro e corteggiare le dame di corte alle vostre spalle forse è così o troverà qualcosa crediamo in lui fai tutto per scusarsi di avervi insultata mercante itinerante è alle porte della città devo farle entrare? certo che sì mi viene ingaggiato anche la Donna Beatrice la nostra mercante abbiamo nessuna provenienza come carte aggiuntive signora io Donna Beatrice posso mostrarvi articoli esotici stupendissimi e magici con la J provenienti da terra lontane magici proprio così con la mia merce non avrete mai problemi proprio nessuno benissimo vi mostrerò qualcosa che meraviglia sto compilando una raccolta di tutti i miei pronostici e le mie conoscenze significhe ne volete sentire alcune? beh sì se in un anno nascono morte più di 6 capre bianche allora ci sarà un terremoto contate le capre beh va bene libro ok ho detto un animale proviamo che? tu riuscire a capire perché è umana volere parlare con me come essere un gatto come essere un gatto oppure puoi aiutarmi? ah io capire tu cercare la signora del bosco che trasformare lei stessa in animali del regno non è il diavolo perché è un altro gioco nel gioco precedente c'era il diavolo e tra l'altro io ve la linko sempre la serie di Reins 1 perché è molto molto figo sì che cerco la bianche ok parla con un animale siamo diventati la maga dalla mercantile siamo diventati Vilma la maga tu non dovere chiedere a me io nasce la tramura di città tu poter acciuffare volpe loro conoscere bene i boschi quindi dobbiamo trovare una volpe e ci proverò una falena sul davanzale distrae subito il gatto quando ero per mare ho sentito strane voci sull'isola di nord ovest potrei riferirle ma tutto a un prezzo non mi interessano perché non ho soldi belle regine l'ultima moda è portare una coda di volpe ve le porterò una sullo scaffale mi serve una volpe viva oh dice delusone prendo una dalla trappola regina le tubature della nostra fattoria sono esplose possiamo usare la caserma dell'edificio per lavarci va bene oh c'è una volpe pio pio che abbaia una volpe stranissima usiamo l'incantese ci capiamo che magia la vostra mano mi ha liberata dalla trappola del cacciatore vi farò qualsiasi favore vogliate posso accarezzarti oppure la signora del bosco per la signora del bosco la volpe è un animale qualsiasi incontriamoci sotto il segno del cancro vi porterò da lei dobbiamo essere nel segno del cancro siamo leone quindi siamo a uno di distanza segno del cancro ogni era al suo segno dice potreste anche cambiare il vostro possiamo cambiare il nostro segno interessante qui fuori c'è una folla impazzita che porta a regare la nostra amata regina stanno abbattendo il ponte elevatoio siamo morti eh sì la folla fa pugni per baciare il vostro anello venite ritrovata martoriata sotto un mucchio di fiori calpestati ok quindi niente male abbiamo fatto un bel po' di passi avanti devo dire perché abbiamo un libro sappiamo che adesso dobbiamo trovare la volpe nel segno del cancro che vuol dire tantissimo probabilmente perché in questo momento siamo esatto l'abbiamo appena superato il cancro è il 69 che c'è qua vediamo se è questo il cancro quindi dobbiamo andare avanti fare tutto il giro o cambiarlo in qualche altra maniera andiamo a fare la prossima partita adesso siamo ariete, toro, gemelli, cancro, leone poi vergine, bilancia scorpione, sagittario capricorno, cuore e pesci allora continuiamo pure la morte delirante di Vilma la maga rimane ancora oggi un acceso argomento di discussione la regina Eleonora sale al trono dopo una lunga sigittacchia messa in ginocchio l'economia la nostra HPL è in pessimo stato cambia voce ogni volta a questi personaggi il cardinale non ne sarà molto felice ci date qualche soldo per restaurarla? no un incendio distrutto un'importante stadla volete esprimere la vostra avvicinanza ai padroni con la denunzione? no Morgana parla spesso di riti d'amore anche voi lo sapete fare? se do questa te avete visto un libro del cattesimo e avete pensato subito alla scheda vi offendete non fatelo più ok i porti sono pieni di criminali mi fanno paura potreste inviare il vostro eserzio e inasprire i controlli? va bene ho già la chiesa ho trovato questo orologio nel mio laboratorio ha dei meccanismi a forma di stella proviene da occidente lo volete? certo che si ok abbiamo un orologio strano un bellissimo orologio dei componenti intricati così come si usa a fare l'ovest ha bisogno di un bel restauro dobbiamo far riparare questo oggetto come prossima spedizione è meglio attraversare il mare per la gloria o avventurarsi a nord in cerca di tesori vai a nord il re continua a comprare armature dorate che tanto non indosserà mai fatelo smettere provateci voi nelle zone remote nelle zone remote del nord abbiamo scoperto una tribù di barbari ho preso una prigioniera che desiderate farne? fatemelo vedere ok abbiamo anche la fai fai esposizione a nord ok siamo diventati la mondana abbiamo sbloccato un altro personaggio le prossime cose sono scopri un nuovo mondo che l'abbiamo appena fatto potenzia l'orologio e ripara il gufo meccanico in questo momento non abbiamo avrei potuto ucciderlo ma volevo incontrare la strana regina ho sentito tanto parlare di voi lottiamo? si perdete l'incontro ma rimane solo ma rimane ferita solo la vostra dignità ok non permetterò che una regina scandalosa come voi stia sul trono i vostri modi illuminati fanno pensare al tradimento questo siamo già morti così ok quindi molto bene siamo a bilancia siamo con un'altra regina vilma vediamo qual è la prossima cosa potenziale entra entra al labirinto alla sua morte Leonor della Mondana era famosissima è stata e sarà per sempre un'icona per le donne disobbedienti la celebrazione del matrimonio della regina vilma mette fine a un periodo di fibrillazione a livello nazionale le danze centriche dell'aristocrazia disturbano i riti sacri stabilite che il sesto giorno si stia in silenzio va bene facciamo delle confidenze dite qui a corte c'è qualcuno che amate il segreto beh è il maestro di caccia il vostro marito va bene quando desiderate parlare di amore segreto mostratevi il profumo leale sarà il nostro segnale oh ok nel mio paese è normale per le donne nobili frequentare altra gente anche se sono sposate che ne dite per me va bene devo eseguire un rito per richiamare l'amore della vostra corte siamo nell'era della bilancia tutto può succedere e ci divertiremo sono innamorato di un mercante che come me si interessa di macchine celesti ma il cardinale mi pugnerebbe mantenete il segreto un sacco di gente una volta c'era un gufo meccanico che leggeva le poesie dei duelli ma si è rotto ora è riposto nella sala dei duelli riparatelo non ci capisco niente di congeni meccanici balbetta è il mio compleanno mi organizzate una festa nei giardini reali mia cara va bene siamo nel labirinto ok invitate tutta la corte a un gala organizzato abbiamo la labirintita adesso invitate tutta la corte a un gala organizzato nel luogo più bello di tutto il palazzo del labirinto che giornata meravigliosa andiamo nel labirinto e giochiamo a rincorrerci come se fossimo tornati i bambini va bene ah quindi è come in Reins quando c'era il labirinto del dungeon dello scheletro immagino sia una cosa del genere un momento dopo vi accorgete di esservi già persa le resiate della festa e cheggiano in lontananza possiamo andare a destra o andare avanti andiamo avanti ormai vi sentite lontana dal rumore della vita di palazzo andate a sinistra andate a destra vedo un simbolo il simbolo è il simbolo della riete ci sono i simboli per terra no qui ci sono solo farfalle che danzano languide nel fresco venticello andiamo avanti il sole caldo si fa venire sotto siete sicuri che qualcuno verrà a darvi una mano sedetevi tornate indietro gli ospiti ridono e si muovono lì nelle vicinanze ma non riuscite a capire dove sono andate a sinistra andate a destra riuscite a intraverare nel velo di una donna ma è già scomparso non vedete nessuno e sentite nessuno andiamo avanti vedo che ci sono i simboli dei ci sono i simboli dello zodiaco questo è il simbolo del toro prima c'era quello della vergine quando girate l'angolo un piccolo storno si libera in volo poi l'aria torna a essere immobile andiamo verso i simboli c'è un simbolo a sinistra tutte le siepi sono tagliate con estrema precisione questo sentiero è identico agli altri continuiamo ad andare a sinistra adesso dovremo andare a destra l'odore che è il simbolo del capricorno l'odore della vegetazione riempie l'aria non riuscite più a capire in quale direzione si è diretta andiamo a destra adesso dovremo andare dritto in teoria che c'è il cancro sentite anche i grilli che finiscono nelle siepi vi fanno sentire una tanta nostalgia andiamo avanti adesso dovremo tornare indietro ormai vi sentite lontano dal rumore della vita di palazzo posso tornare indietro allora se questo è a riete io vado a sinistra le lunghe ombre è quello che il simbolo è le lunghe ombre nelle siepi creano strane forme a terra urlate ma nessuno vi risponde andiamo avanti vi sedete un po' adesso c'è il simbolo della bilancia io sono una bilancia quindi sediamoci qua vi sedete per un momento il sole vi calmate poi proseguite ah qua ci sono queste ah forse è l'ordine gli ospiti ridono e si muovono lì nelle vicinanze ma sono riuscito a capire dove sono e c'è il simbolo del pesci andiamo a destra qua c'è il simbolo per terra torniamo indietro andiamo avanti ah eccovi mia regina mi è arrivata e perduta permettetevi di ascoltarvi a palazzo quindi il labirinto si può risolvere in qualche maniera rimango qui oppure sì sì torniamo a palazzo vabbè un'altra volta che ci torniamo magari riusciamo a combinare mia cara moglie aiutereste il giudice del regno con alcuni casi certo che sì ho visto un gufo meccanico malandato in un angolo della sala dei duelli volete che lo sistemi adoro queste cose certo ok siamo riusciti a riparare il gufo meccanico ora che il gufo è stato riparato potete usare la sala dei duelli ah quindi possiamo fare i duelli quindi se becchiamo la bar la la barbara sì barbarian la barbara possiamo possiamo provare a combatterla il vino della duchessa orsola è scadente a palazzo si dovrebbe festeggiare con la birra al miele della famiglia lo proveremo o sciocchezza questo è nuovo ah perché giusto l'ho chiamato io il giudice un uomo è passato sulla proprietà del suo vicino ed è stato incoronato dal bue ha diritto al regiaggimento sì ok mi è sceso un po' cedric il giusto delibera che le corna del bue non erano abbastanza smussate e dà ragione all'intruso si dice in giro che scendiamo troppo compromessi con i nemici e che siamo sempre deboli che ne pensate mia cara la forza sta nella diplomazia o proviamo a essere più spietati la mia gente crede che il sole oscuro arriverà a breve le tenebre scenderanno su tutti e noi e la gente tremerà impossibile ah i cervi hanno devastato il mio raccolto regina posso avere un recinto ne ho provato il vino delle cantine reali che uva fantastica ma andiamone un po' alla signora del bosco va bene un giorno il re potrebbe essere vittima di un incidente voi salirete sul trono io sarò ai vostri piedi andateci piano o un giorno un giorno il cacciatore mi ha detto una cosa terribile gli avete detto di uccidermi così che lui possa regnare al vostro fianco scherzetto la gente mi dice che le donne saranno essere divertenti ma scuota la testa nell'ultimo quadro siete ritratta tra i papaveri e con indossa una ghirlanda d'oro sono simboli del male modifichiamolo o vi immaginate le cose modifichiamolo mantenere l'esercito è un salasso se vi sentite al sicuro diminuite le pattuglie per risparmiare qualche soldo va bene avete modificato il ritratto per renderlo conforme all'iconografia della chiesa la signora del mosco ci rimarrà male modifichiamolo ancora pensate mai di non so tipo uccidere vostro marito quando è girato dall'altra parte si abbiamo completato i calcoli bene il 72% delle altre regine ha fatto la stessa vostra scelta condivide o quali altre regine cos'è sta cosa il maestro di duelli ok condividi maestra il vostro nuovo ritratto è meraviglioso è solo un po' alienante io non compaio affatto chi se ne importa la regina deve essere un modello di fede per la nazione vi suggerisco di essere un po' più devota ma certo oh questo orologio stellare è troppo carino mi piacciono questi oggettini posso dargli un'occhiata cosa state facendo nonni madre mi ha parlato avrei dovuto forse usare la cosa e se foste voi la prescelta della profezia potrebbe anche essere veniamo da mondi così diversi ma non sono mai riuscita a resistere al vostro fascino anche voi siete attrata ma ho usato per sbaglio la la il profumo quindi il profumo fa innamorare le persone sembrerebbe di sì sì ronf tu mi puoi parlare ancora ciao io già dire te tutto quello che io sapere te grattare orecchio ora grattare orecchio sembra felice voi siete la regina e non possiedete un'arma che è strano vi regalerò questa pistola da duello ok quindi possiamo fare duelli con la pistola adesso una pistola cerimoniale ingioiellata creata per lanciare duelli di poesia lanciare duelli di poesia sembra una citazione di monkey island questa o qualcosa del genere dovreste imparare a usarla più presto mostratemi la vostra pistola andiamo nella sala dei duelli ok è ora di imparare a duellare le mie antiche poesie vi diranno come fare ok ok vi mostrerò come si fa cantando una canzone pieno fiato dovrete usare l'arma quando il termine è sbagliato capito bello che hanno fatto una traduzione un po' migliore anche del primo tra l'altro che non aveva qualche problemino ci proverò ah quindi abbiamo i duelli effettivi quindi non è come i combattimenti dell'uno ma questa volta abbiamo il duello non di spade ma di pistola vi mostrerò come si fa cantando una canzone a pieno fiato dovrete usare l'arma quando il termine è sbagliato voi e fai prendete posizione schiena contro schiena il gruffo comincia a cantare un tempo in questo regno c'era una magica regina il palazzo era nei boschi tra la selvaggina sta passando il tempo fate un passo avanti ma poi le croci dorate arrivarono e tutti il suo nome si scordarono non c'è sbagliato quindi fate un passo avanti abbiamo sbagliato a dimenticarla ma la cerva sacra compare ancora anche senza chiamarla fuoco proprio così il termine era sbagliato avete vinto non imbrogliato ma me ne vado per poco non mi avete umiliato che figata che è scritto in rima e vai questa volta era un'esercitazione fate attenzione in futuro i duelli potrebbero terminare con un'estrema unzione capisco siamo morti però qui fuori c'è una forla impazzita che porta a regale la nostra amata regina stanno abbattendo il ponte elevatoio quindi siamo morti di nuovo in mezzo alle rose fico fico perché abbiamo tutti e cinque gli oggetti ci abbiamo messo un po' di tempo ma abbiamo fatto dei passettini avanti niente male secondo me a livello storia facciamo un attimo un ragionamento perché c'è ancora un po' da imparare intanto vediamo se mi appare il mouse perfetto così possiamo vedere le azioni reali ce ne abbiamo ancora abbiamo da potenziare l'orologio come prossima cosa come memento mori abbiamo solo sei morti per ora e come galleria dei ritratti cominciamo a vedere un po' di personaggi abbiamo più o meno abbiamo appena superato la metà dei personaggi fondamentalmente con anche il gufo il precettore il cardinale la mercante la donna del nord citazione anche di game of thrones da un certo punto di vista 214 carte scoperte eppure abbiamo ancora siamo a un sesto più o meno del gioco quindi c'è ancora un bel po' di roba da fare adesso abbiamo l'affascinante profumo della regalità potrebbe conquistare qualche cuore una pistola cerimoniale creata per lanciare due L di poesia un bellissimo orologio di componenti intricati così come si usa a fare nell'ovest ha bisogno di un bel restauro quindi dobbiamo riparare l'orologio e l'osso dobbiamo ancora capire cos'è sembra sia la zampa di un piccolo pollo e poi questo è diventato rosso quando la collita c'è scritto sopra notate i segni degli animali quindi dobbiamo parlare con la volpe quando siamo nel cancro nel segno del cancro e gli altri non so ancora cosa fare e tra l'altro dobbiamo anche risolvere il labirinto ci vediamo quindi al prossimo episodio chissà se ce la faremo a esplorare ancora di più e tra l'altro non abbiamo ancora capito quando è che finisce questo gioco l'altro abbiamo fatto il conteggio col discorso del diavolo del 666 e i suoi multipli ma questa volta chissà 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 ci vediamo al prossimo episodio io sono l'anest brave ringrazio ancora tutti quelli che stanno guardando questa serie perché questa serie è dedicata effettivamente a fab e al fatto che il suo canale non c'è più e so che lui aveva iniziato un let's play proprio su questo gioco ed è uno dei let's play che ha fatto anche lui insomma nel primo quindi gliela dedico insomma per un po' di tempo spero che possa magari vederla e parlare un pochino con me in modo da poter darvi qualche informazione in più ci vediamo alla prossima io sono questo brave namaste e prego grazie a tutti ciao